Buonasera a tutti, stiamo iniziando il nostro sorteggio per i regali di Natale Spieghiamo un attimo il regolamento In pratica sorteggeremo i nomi in sequenza Ognuno dovrà fare il regalo al nome successivo E l'ultimo nome dovrà fare il regalo al primo nome estratto Ah, come complesso Non ci capite, lo sa, non ci capite Gennaro C'è un po' di miscio Gennaro, fai un po' di commenti in una malletta, quale sei, non lo so Allora, Gennaro stava in... E' una cosa, quando me dobbiamo ripetere? No, no, no Vabbè, sorteggeremo i nomi Inserisco i vostri nomi nel mio capello Alla presenza del notaio Linda Però, aspetta Poi spieghiamo anche che se usciranno, nel caso in cui usciranno marito e moglie O fidanzata e fidanzata O fidanzato e fidanzata O sacerdone E' perfetto No, no, no Sarà nuovamente ripescato il nome Per incompatibilità e compito Scotoliamo però Scotoliamo perché... Scotoliamo il panellino Dania Cook Ok, io estraggo il primo nome Scusate, ho un po' di sete perché... Il primo nome è... È l'arsubrella Francesco Mandato Francesco Mandato lo farà a... Mettiamo qui Francesco Mandato Farà il... Scotoliamo Il regalo a... Sono troppo vicino Anna La Carità Anna La Carità Anna La Carità Anna La Carità Era meglio pagare la mia Però... Faccio il regalo a Anna La Carità Però... Questa è la sorte Il prossimo... Giuliana Giuliana Quindi Anna La Carità fare il regalo a Giuliana come l'anno scorso Sì No, voglio fare Così è Eh sì Così è In modo che ognuno fa il regalo a... Ok Ok Siete sicuri? Vado a vedere Regalo a Giuliana Giuliana fare il regalo a... Bubbo Ah Una nuova coppia Mentre Bubbo farà il regalo a... Michela Ecco Quindi dobbiamo rifercare Rifercare Però... Non lo dovete mettere dentro per lei Perchè adesso potresti rifercare Eh no Bubbo farà il regalo a... Maria Giovanna Maria Giovanna E Maria Giovanna Farai il regalo a... Gennaro No No Michela Michela Quindi... Per la regola... Fai vedere me Quindi per la regola del... Quattro dovrebbe uscire adesso... Michela Farai il regalo a... Non penso che sarò io perchè... Michela lo farà Linda Mmm Ottimo Facci vedere bene Linda Ok E Linda farai il regalo a... Scorre veloce... Scorre veloce questo sorteggio... Bravi A Gennaro A Gennaro Yeah Coppia ha già sperimentato Sì due anni fa con la bellissima mutanda E Gennaro E Gennaro farai il regalo a... Tochino Minieri Oh Ottimo Oh ok E Tochino Minieri farai il regalo a... Gennaro Un po' più suspense Silvio Ero l'ultimo Non mi regalo Non lo so Anna Maria E Silvio farai il regalo a... Eh non è possibile Perché Anna Maria Perché poi Anna Maria dovrà fare il regalo a Francesco Mandato Si ripesca tutto Tutto a capo Quindi dobbiamo Quindi dobbiamo... Ah no Claudio è uscito a Claudio Ah è uscito a Claudio Silvio il regalo a Claudio Eh no E allora dobbiamo fare uscire Anna Maria Perché? È perché È perché Anna Maria... E allora che inquadramo? Eh ma devi... Si è creato un impasse Un attimo notaio Ma questo è previsto Si è creato un impasse E dobbiamo cercare di capire il nostro... Sì io sono il regalo a Anna Maria Ah ma nel frattempo che io inquadravo il notaio successivo Ma avete investito Avete fatto qualche movimentazione Il cappello Anna Maria farà il regalo a Claudio Claudio Mmm Il cappello come si vede è vuoto Questa è l'etichetta d'acquisto L'ho scontrì È stato così semplice Guarda ma non ho trovato Anna Maria Allora che parla Chi legge il regalo? Guarda ma non ho trovato Anna Maria Ma non ho trovato Anna Maria Ti vuoi trovare la solita borsa La solita borsa Louis Vuitton La solita borsa Questa volta Quest'anno facciamo la borsa Michela Io te la faccio a te Io te la faccio a te No Michela a me Vabbè togli nessuno Ah no a me me la fai Eh Ciao Ma quando dobbiamo spendere al massimo Ricordiamola 15 euro Non un euro di più 15 euro Perché poi c'è la quota E la quota per il pranzo Esatto Che è? E vedremo poi con Anna la carità Il pandello Che è l'economa del pranzo Che ci dirà Della serie Reveillat von Urgalo Vabbè Una saluta anche tu che non ti sei vista Salve salve Ciao E con tutto Vi mandiamo E vogliamo chiudere con un'immagine poetica Sì Ciao 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 Ciao